Nell'anticipo del sabato, relativo al tredicesimo turno del girone A di prima categoria, il Pizzoli si impone sul 4-0 contro il San Francesco. Con questa vittoria, i ragazzi di Perpallo Rutili, unici a essere ancora imbattuti nel torneo, agguantano momentaneamente l'Aquila in testa alla classifica, in virtù del rinvio della gara di Rosso-Blu contro il Cesaproba. Il Pizzoli prende le retini del gioco già dal primo tempo, ma, per la poca lucidità sottoporta e per una difesa tatticamente perfetta del San Francesco, l'incontro resta privo di reti fino al duplice fischio. Nella ripresa, gli ospiti perseverano nel loro gioco e trovano con annunziata la rete che porterà al poker. Marco Proia propone un 3-4-3 con Scarcella e Caglione a sostenere Martinelli. 3-5-2 il modulo scelto dal collega Rutili, con il rientrante Piri e Greco a formare la coppia d'attacco. Al Davide e Matteo 5 la prima conclusione di stampo Pizzolano, con la svirgolata di Napoleon che termina sul fondo. Al quattordicesimo il velenoso tiro cross di Lusi spaventa la difesa Pizzolano, ma nessuno del San Francesco riesce ad approfittarne. Diciottesimo, Pizzoli ancora pericoloso con il mancino di Greco da fuori, palla alta sopra la traversa. Ventunesimo, cross di Vittorini per Ursace che solo in aria non riesce ad agganciare la sfera. Tre minuti dopo, ospiti vicinissimi al vantaggio sugli sviluppi di un corner con il colpo di testa di Napoleon che finisce clamorosamente sul fondo. Continua il forcing del Pizzoli nella ripresa. Dopo due minuti, infatti, Piri in corna di testa, ma il pallone termina fuori. Al nono arriva il vantaggio del team di Rotili. Botta da fuori di annunziata, Di Ruggero non riesce a bloccare la sfera e il pallone termina in porta. Clamorosa occasione del Pizzoli al sedicesimo. Dopo un parapiglia in aria, Piri, a un passo dalla porta, spara fuori. Ma due minuti dopo ci pensa Gizzi a siglare il 2-0 con un siruro che si insacca all'incrocio dei pali. Il tris al 27esimo con Di Ruggero che riesce sì a bloccare il tentativo di D'Agostino, ma non il tiro violento di Piri. Il poker lo completa D'Agostino che in corna in rete il corner calciato da Vittorini. Di seguito i commenti della gara da parte del tecnico del San Francesco Marco Proia e del centrocampista del Pizzoli, Simona Annunziata. È evidente, insomma, una squadra tecnicamente preparata come loro. È una squadra che dovrà puntare a vincere il campionato. Quindi noi stiamo facendo un'esperienza grossa con tantissimi ragazzi all'interno della squadra. Quindi, anzi, abbiamo fatto anche una bella figura perché tutto sommato i ragazzi non sono andati male. Sono comportati bene, quindi merito il Pizzo ovviamente a dei giocatori troppo superiori ai nostri. I nostri tutti i 99, loro hanno giocatori esperti di queste categorie, quindi nettamente superiori. È stata una partita difficile in avvio, soprattutto per noi per trovare un po' di spazi. Loro erano messi bene in campo, organizzati, già comunque lo sapevamo, il mister ci aveva preparato a questo. Siamo stati bravi comunque a non demoralizzarci, a provarci anche nel secondo tempo. Io personalmente sono contento che il mio gol è servito per sbloccare la partita, ma l'importante è il risultato della squadra. Al momento il Pizzoli, aspettando chiaramente la gara tra il Cesaproba e l'Aquila, che come sappiamo è stata rinviata, ha dato da destinarsi, è prima in classifica insieme a Rosso-Blu e resta comunque un risultato importante. Sì, resta un risultato importante perché comunque noi oggi avevamo una gara da portare a casa e ci siamo riusciti. Logicamente non siamo legati solo ai nostri risultati. Il campionato è lunghissimo, l'Aquila comunque dovrà recuperare una partita, è una squadra di un'altra categoria, quindi noi pensiamo a fare il nostro percorso, pensiamo solo a noi e alla fine si vedrà.